Un progetto fallimentare che ancora oggi causa non poche ripercussioni agli ex proprietari dei terreni sui quali sarebbe dovuto sorgere la Maxi Polo Ciliegino. Dall'amministrazione comunale, almeno ufficialmente, non sono arrivate indicazioni sulle scelte da assumere, mentre il peso dei debiti fuori bilancio dovuti agli espropri delle aree potrebbe a breve abbattersi sulle casse dell'ente. C'è chi non apprezza affatto il metodo adottato dal sindaco Lucio Greco e dalla sua giunta per affrontare il caso, l'avvocato Giuseppe Nicosia, che è il liquidatore dell'associazione Airone, spiega di non aver ricevuto alcuna risposta dal sindaco e dall'amministrazione comunale nonostante abbia più volte sollecitato la fissazione di un incontro. Ha scelto così di dare mandato al legale dell'associazione per proseguire l'azione esecutiva contro il comune anche con la nomina di un commissario ad acta. L'associazione, che gestiva una biosuperficie nelle aree poi espropriate, ha ottenuto un decreto ingiuntivo da 212 mila euro nei confronti del comune. Ad oggi non c'è stata alcuna intesa, così come è capitato con decine di altri ex proprietari che addirittura continuano a ricevere le cartelle per il pagamento dell'Imu, pur non avendo più la materiale disponibilità dei terreni. Lo stesso Nicosia spiega di riservarsi l'eventualità di un esposto ai magistrati della Procura della Corte dei Conti regionale. Spetterebbe a loro quindi valutare se ci siano profili di mala gestione in tutta questa vicenda. Il paradosso non smette mai di riservare sorprese in un iter nato da un investimento da sogno che avrebbe dovuto cambiare lo scenario economico del territorio. Come è andata a finire lo sanno bene anche gli ex proprietari rimasti a mani vuote.